e ritorniamo in studio cari amici quando sono le nove e due minuti ed è con gioia che accogliamo oggi in studio il ministro provinciale della provincia di toscana di san francesco stigmatizzato e non è un caso oggi fra livio crisci benvenuto fra livio grazie buongiorno a tutti allora fra io comincio subito col chiederti oggi intanto buona festa buona festa gli 800 anni 800 anni delle stimmete di san francesco un evento che coinvolge le famiglie francescane e che vede al centro il monte della verna dove francesco si ritirò a seguito di un momento di crisi umana e spirituale quale messaggio scaturisce da questo evento di grazia di grande grazia francesco nell'agosto del 1224 per l'ultima volta sale su alla verna per fare una quaresima come faceva spesso in onore della maria assunzione di maria e della festa di san michele arcangelo ma le biografie ecco dicono che proprio in questa quaresima una quaresima particolare come dicevi giustamente in cui si portava dei pesi sicuramente pesi dovuti alla grande espansione della famiglia dell'ordine francescano inaspettata per lui anche con i problemi conseguenti e anche personale probabilmente un po di fatica di smarrimento interiore come già era venuto in passato quando appoggia bustone sente la benedizione il perdono del signore ma anche alla verna fa questa esperienza di fatica ma una fatica vissuta nell'amore nella ricerca vissuta nell'abbandono per noi della famiglia francescana è un momento bello e importante di celebrazione forse dei centenari è il più difficile da raccontare vero perché misterioso perché interiore perché interno nel cuore di francesco poi si manifesta anche nel suo corpo a proposito di centenari ricordiamolo l'abbiamo già detto all'inizio di puntata prima di te fra lì abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare monsignor vito piccinonna che potremmo dire essere il custode della betlemme di francesco quindi con greccio poi ovviamente ora siamo con la gerusalemme potremmo dire di francesco che appunto la verna e poi nei prossimi anni fino al 2026 insomma ricorderemo per arrivare appunto agli 800 anni della morte altri eventi importanti ebbene l'incontro con il crocifisso che francesco vive a la verna in qualche maniera lo porta anche a incontrare i tanti crocifissi della storia sappiamo che francesco a cuore coloro i quali sono ai margini della società ed è una lezione importante direi fra livio perché nonostante ecco siano passati 800 anni ci aiuta a focalizzare quell'individualismo che oggi pare essere imperante che francesco cancella con la sua storia con la sua vita con la sua spiritualità sappiamo benissimo che gli ultimi specie dei malati sono fin dall'inizio di francesco importanti nel suo percorso l'abbraccio con i lebrosi gli fa sperimentare quello che da parte sua sembra ecco una iniziativa di misericordia di benevolenza verso di loro in realtà francesco sente in quell'abbraccio si sente abbracciato dal signore è sempre vicino francesco ai malati ai feriti ai piccoli della storia e questo evento delle stimmate lo renderà ancora più vicino sappiamo che negli ultimi due anni di vita francesco dopo aver ricevuto le stimmate anche se le tiene sempre nascoste non le manifesta mai ma avvicina tante persone continua non c'è il vangelo ma anche compie dei segni anche delle guarigioni segni belli della presenza della grazia di dio nella ordinarietà della nostra vita e questo francesco capace di farlo anche oggi vivere una profondità una radicalità evangelica ti porta a vivere profondamente nella tua epoca ma essere comunicabile e capace di comunicare con tante altre epoche con tante altre persone di altre culture di altri luoghi del mondo questo è un po uno dei grandi miracoli di francesco ma infatti la vita di francesco continua ad affascinare nonostante il passare degli anni siamo nella novena di san pio dalle ferite la vita nuova qual è l'elemento di giovinezza di francesco che secondo lei continua più di tutti ad affascinare proprio in questi giorni dal 14 della festa della santa croce abbiamo 100 giovani via laverna che stanno facendo un ritiro proprio in preparazione alla notte che abbiamo appena vissuto tutta la notte passata in preghiera animata da vari gruppi di giovani nel santuario nei vari luoghi nella cappella dell'estima che in basilica in sant'amore degli angi l'adorazione eucaristica è stata una bellissima veglia e bisognava chiederlo a questi giovani io posso azzardare che quello di francesco che colpisce un giovane è la radicalità ma una radicalità di vita che è una ricerca di felicità e condivisa una ricerca di verità di felicità radicale ma bella e condivisa grazie 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 molte fra il via padre livio abbiamo parlato dunque di questa gerusalemme dalle ferite la vita nuova proviamo anche a focalizzarci anche sul parallelismo direi quanto mai provvidenziale che vede san francesco e anche il nostro padre pio protagonisti in questo periodo di settembre oggi ricordiamo appunto le stimmate del serafico padre giorno 20 dunque tra poche ore quelle di san pio da pietrelcina è una provvidenza insomma che i due eventi a distanza ovviamente di secoli si vadano ad intrecciare a distanza di così pochi giorni e allora la riflessione che vorrei chiederti parte proprio dalle vite dei due stimmatizzati quale lezione possiamo imparare da questi due santi che si hanno vissuto nella sofferenza attraverso le ferite che il signore ha voluto imprimere sul loro corpo ma che hanno lo sguardo gettato oltre alla domenica di pasqua come sapete fra il santuario la nostra provincia e i fratelli del santuario di padre pio i fratelli cappuccini c'è un gemellaggio è proprio in vista della celebrazione dell'estima che già da qualche anno i contatti si sono intensificati e proprio nei prossimi giorni di malatesta di san francesco ci sarà un nuovo gemellaggio tra il monte della verna e il monte del gezzemani in terra santa ecco questi segni di padre pio di francesco impressi nel loro corpo sono i segni del signore che ci salva che ci dona a se stesso con il suo con tutta la sua vita anche con il suo corpo segnato dalla croce le stimmate sono un segno di speranza prima di tutto di forte speranza speranza di una luce oltre il buio del dolore oltre la solitudine dell'abbandono padre pio e francesco ci parleranno sempre di un amore che va oltre i limiti del cuore dell'uomo e della sua storia questo segno vorremmo anche lasciare un momento così difficile anche per la terra di gesù e per tutte le terre in questo mondo in cui si vivono le ferite e la guerra certo e allora fra livio vogliamo chiudere questo nostro incontro con la preghiera che papa francesco ha composto idealmente per questo anniversario e che vi ha consegnato lo scorso mese di aprile quando ha ricevuto i frati della verna in udienza per questo anniversario san francesco uomo piagato dall'amore crocifisso nel corpo e nello spirito guardiamo a te decorato delle sacre stimmate per imparare ad amare il signore gesù i fratelli e le sorelle con il tuo amore con la tua passione con te è più facile contemplare e seguire cristo povero e crocifisso donaci francesco la freschezza della tua fede la certezza della tua speranza la dolcezza della tua carità intercedi per noi perché ci sia dolce portare i pesi della vita e nelle prove possiamo sperimentare la tenerezza del padre e il balsamo dello spirito le nostre ferite siano sanate dal cuore di cristo per diventare come te testimoni della sua misericordia che continua a guarire e a rinnovare la vita di quanti lo cercano con cuore sincero o francesco reso somigliante al crocifisso fa che le tue stimmate siano per noi e per il mondo segni splendenti di vita e di risurrezione che indichino vie nuove di pace e di riconciliazione amen è una bellissima preghiera che ci tenevo a condividere anche con te padre libio in questo giorno di grazia così bello che unisce idealmente anche il monte del gargano e il monte della verna in questo abbraccio nelle ferite di francesco e di padre pio noi ti ritroveremo alle 11 giusto con la celebrazione eucaristica e dunque ci rivedremo tra virgolette idealmente per questo altro momento di preghiera così bello e così importante nel frattempo ti salutiamo grazie di essere stato con noi grazie di averci portato un po di aria santa santa giornata voi vostro lavoro e tutti i tene spettatori grazie 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 padre libio grazie di cuore e andiamo in pubblicità e poi ritorniamo a parlare questa volta declinando in maniera diversa questo anniversario delle stimate di san francesco pubblicità لبio grazie grazie a tutti gl Exacto ارutamanismi